8 agosto 1991, 8 agosto 2011. 20 anni esatti dallo storico arrivo della nave Evlora nel porto di Bari e da quello sbarco di migliaia di albanesi in cerca di un futuro e una vita migliore. Dopo le celebrazioni della scorsa settimana e la visita nel capoluogo pugliese anche del presidente Bamir Topi, oggi c'è stata la cerimonia conclusiva di quell'esodo biblico, il primo di migliaia di traversate della speranza. Nella sala consigliare del comune tanti protagonisti di quell'8 agosto che hanno ripercorso quella giornata memorabile. Tra loro anche Antonio Silvestris dell'emergenza Radio San Paolo, primo soccorritore ad arrivare al porto di Bari. Fu il primo in assoluto perché quando ci fu il tam tam di questo probabile arrivo di una nave pieno di cittadini albanesi, noi come associazione subito ci eravamo messi in stati di allerta e andammo al porto per vedere se tutto era vero o meno. In effetti era vero e stavamo proprio assistendo a un fatto apocalittico nel vero senso della parola perché vedere quel momento in cui la nave stava prendendo nel porto, vedere tanta gente cosa mai vista neanche in alcuni film di fantascienza e di seguito è stata veramente una cosa tremenda in tutti i sensi. Nel corso della cerimonia, per ricordare il lavoro svolto quel giorno dall'allora sindaco di Bari Enrico Dalfino, è stato scoperto un ritratto dedicato proprio a quell'uomo, ora scomparso, che nonostante le critiche del presidente della Repubblica dell'epoca, Francesco Cossiga, gestì con grande umanità e senso di responsabilità la più grande emergenza umanitaria della storia italiana. Fu chiamato alle sei del mattino, lui scappò e quindi si sentiva attraverso la stampa, la televisione, quello che stava succedendo e poi lui ogni tanto mi chiamava e mi metteva al corrente della situazione. La cosa più brutta fu quando tornò di notte alle tre e io cercai di farlo ristorare un po', ma lui niente, era proprio distrutto, distrutto.